un saluto da andrea castriotta e benvenuti alla nuova puntata di capitanate sport magazine e soprattutto vi ringrazio per il crescente seguito di ascolti per il nostro tg sportivo ricordiamo tutto lo sport della nostra terra ad eccezione del calcio entriamo subito nel vivo della trasmissione questa volta davvero ricca ricca di contributi video foto e quant'altro quindi entriamo subito nel vivo della pallavolo femminile serie b1 girone d con le doppie vittorie delle nostre due compagini da di lillo libera virtus cerignola patte in trasferta planet strano light catania per 3 7 0 mentre la bcc sgr volley manfredonia batte in casa fin chiara santa teresa per 3 7 1 come vedete dalle immagini appunto grande festa e vittoria delle ragazze sipontine ringraziamo il collega l'amico antonio baldassarre che ci ha concesso appunto l'utilizzo delle sue immagini ricordiamo il suo canale youtube parlando di sport davvero complimenti alle nostre formazioni ricordiamo in classifica la di lillo libera virtus cerignola è a 25 punti grande balzo in avanti della bcc sgr volley manfredonia che sale appunto a quota 19 punti in serie b2 girone i purtroppo dobbiamo constatare lo stop della pallavolo cerignola che perde in trasferta contro ultra gel a rd palermo per 3 7 0 tuttavia le pantere fucsia sono al quarto posto a 39 punti a soli 4 punti dalla capolista e ad un punto dalla zona playoff scendiamo di categoria serie di girone a rapida carrellata di risultati progetto bat batte olimpio ortanova per 3 7 1 la svg energia lucera perde 3 7 a 0 in casa contro palo sporting club volley come vedete dalle immagini vogliamo comunque sottolineare la capabilità delle ragazze che non si sono date per vinte e in questo scambio l'hanno davvero spuntata complimenti per questo scambio la foggia volley perde in casa contro just british volley bitonto per 3 7 a 2 ricordiamo giocava contro la capolista che non ha perso nemmeno una partita e le ragazze foggiane conducevano per 2 7 a 0 poi hanno subito la rimonta delle ragazze bitontine ringraziamo anche l'associazione foggia volley per averci concesso gentilmente queste immagini la farmacia fare sul scera riposava e pertanto diciamo ritornerà a calcare il parquet sicuramente tra sabato e domenica prossima per quanto riguarda la pallavolo maschile l'enrico tecnomaster beats cerignola batte nel derby l'unipolsai lucera per 3 7 a 0 come vedete dalle immagini scambi molto interessanti ringraziamo anche questa volta l'enrico tecnomaster beats per averci concesso queste immagini e vogliamo ricordare che l'ads group lucera ha battuto in trasferta il volley club grottaglie per 3 7 a 1 e sostanzialmente segue la scia dei cerignolani che sono primi saldamente a 41 punti e diciamo seguono a 6 lunghezze i lucerini invece gli altri i cugini dell'unipolsai lucera sono a 13 punti in penultima posizione prima di cambiare sport vogliamo ricordare con piacere che a lucera si terrà la final four di coppa puglia appuntamento appunto sabato 31 marzo e saranno impegnate le due nostre formazioni appunto l'ads group lucera e l'enrico tecnomaster beats cerignola bene dopo questa ricca parentesi di pallavolo cambiamo sport e introduciamo la pallacanestro maschile serie b girone c l'allianz pazienza sansevero torna la vittoria battendo in casa la we are basket ortona per 86 a 64 purtroppo la castellana udas cerignola perde in casa contro amatori basket pescara per 72 a 78 in classifica come al solito capolista indiscussa l'allianz pazienza sansevero con ben 44 punti purtroppo la castellana udas non è in ottime posizioni con i suoi 16 punti esattamente in terza ultima posizione facciamo davvero un grandissimo in bocca al lupo alla squadra di coach marinelli che possa conquistare una buona salvezza scendiamo di categoria serie c silver girone a risultati contrastanti per le nostre due formazioni infatti la silac manfredoni aperte in trasferta ad altamura contro pasta lori altamura per 81 a 70 purtroppo partita effettivamente mai in discussione mentre la sunshine bieste fa un colpaccio come si suol dire vincendo a in trasferta a mola contro mola new basket 2012 per con il risultato di 62 a 69 grazie a questa vittoria diciamo si avvicina una salvezza importantissima per i ragazzi di francesco de santis cui davvero rivolgiamo anche loro un calorosissimo in bocca al lupo in serie di girone a anche qui risultati contrastanti per le nostre due formazioni la diamond foggia la diamond foggia è corsara contro la new basket 99 lecce vincendo appunto in trasferta per 89 a 78 ricordiamo questi sono play off la pool play off mentre nella pool play out purtroppo il kus foggia cede in casa contro ciauri mesagne per 73 a 44 pesante sconfitta per i ragazzi di danilo lamacchia che ospichiamo si possano rifare direttamente sabato prossimo il campionato di promozione è terminato come sapete tutti e play off play out riprenderanno il o meglio cominceranno il weekend tra il 17 e il 18 e noi ovviamente seguiremo con attenzione le squadre di capitanata per quanto riguarda la squadra femminile di basket della magnifico basket sansevero ricordiamo impegnata nel campionato under 18 ha vinto la trasferta contro bozzano brindisi vicendo appunto in trasferta per 51 a 35 ed in classifica hanno 8 punti sebbene in terz'ultima posizione settimana prossima torneranno sul parquet ragazze e noi non possiamo che augurarle augurare loro una buona partita e di portare a casa altri punti il rugby riposava per l'impegno della nazionale del sei nazioni e per quanto concerne la palla a mano ricordiamo serie a due pertanto la seconda serie più importante del campionato di questo sport la free time manfredonia ha perso ad altamura in una partita davvero tiratissima per 29 a 27 ciò non 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 inficia davvero il campionato bellissimo dei dei ragazzi sipontini che sono terzi a 19 punti davvero un ottimo campionato per i manfredoniani terminiamo la parentesi degli sport di squadra e apriamo una breve ma intensa parentesi sulle arti marziali parliamo di karate con grandi soddisfazioni per associazioni di karate foggiano che hanno conquistato diversi pass per i prossimi campionati di karate juniores che si terranno come di consueto ad ostia nel prossimo weekend parliamo di desirè eronia dell'associazione di cosimo leone invece per la physics center karate di foggia si sono qualificati e saranno ammessi palmisano sacco lerario e menuno invece per il mawashi team ottima la il pass realizzato conquistato pardon da nicola carretto restando in tema di arti marziali vogliamo ricordare la seconda edizione del the night of revolution organizzata dalla palestra revolution di ciccio russo di foggia nel corso della serata del 18 marzo a partire dalle ore 19 ci saranno quattro atleti foggiani che saranno impegnati in incontri professoristici di k1 e nel pomeriggio ci saranno numerosi incontri di k1 light e a contatto pieno davvero non perdete questo questo importante spettacolo offerto dall'associazione foggiana esordio di un nuovo sport in capitanate sport magazine con il tennis e esattamente ci riferiamo al campionato a squadre di serie c con l'ottima vittoria del tennis club foggia che asfalta il calimera per 6 set per 6 partite a zero esattamente quattro singoli e due doppi complimenti ai atleti foggiani che hanno ben figurato in questa partita ricordiamo ritorneranno domenica prossima a giocare proprio contro l'angiulli bari sempre in casa e noi cercheremo di seguire anche il tennis adesso parliamo di atletica parliamo prima della downia running di sansevero che conquista la medaglia d'argento al cross di staffetta master nella categoria over 40 campionati tenutisi a gubbio il quartetto antonello petrei felice dell'aquila domenico caporale francesco milella davvero complimenti a questi giovanotti che si sono imposti in questa gara invece parliamo in questo caso di davvero campioni in erba al meeting coppa giovani in programma al ad ancona si sono sono partiti 30 atleti foggiani e che hanno ottenuto davvero importantissimi risultati diversi podi sono davvero tantissimi e per questo invito a seguire la pagina della scuola nazionale d'asta e tuttavia vogliamo sottolineare il risultato più importante appunto loro conquistato dalla 4 per 200 complimenti ai ragazzi michele alessandro leonardo e adolfo che hanno conquistato il metallo più prezioso noi vi seguiamo vi facciamo un davvero un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo della vostra carriera che speriamo possa essere davvero lunga e ricca di soddisfazioni ultima giornata o meglio l'ultima notizia di giornata parliamo di scherma e nel secondo open di qualificazione per i campionati assoluti 2018 tenutisi a caurle doppio oro per gli sciabolatori foggiani e appunto hanno vinto martina criscio e luigi samiele entrambi foggiani doc che hanno portato a casa il metallo più prezioso davvero complimenti a martina e luigi bene siamo davvero questa volta ai saluti conclusivi io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e invito le tutte le associazioni sportive ad inviarci i vostri comunicati stampa locandine delle vostre dei vostri eventi alla mail info chiocciola capitanataisport.it davvero un saluto e a prestissimo grazie viva tutto lo sport della nostra terra